Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un nuovo video in cui affronteremo per la prima volta questo libro, il libro di Pierluigi Tombetti intitolato I grandi misteri del nazismo, La lotta con l'ombra, un libro in cui si analizza, in cui si cercano di chiarire gli aspetti esoterici, mistici e magici del nazismo. Sia ben chiara una cosa, come specificato più volte, io sono una persona estremamente scettica. Sono uno scettico, sono un agnostico, sono un irreligioso. Diciamo, non è tanto che io non creda all'esistenza di, come dire, un piano superiore o ulteriore. Non ne ho le prove. Non sento la necessità di cercare queste queste prove. Diciamo che vivo bene con il mio scetticismo, con il mio agnosticismo. Quindi diciamo che non ho una grande preparazione sull'esoterismo e sulle, diciamo, ideologie mistiche e parareligiose. Ne ho una conoscenza a livello storico, ma diciamo che rimango quantomeno perplesso quando leggo certe cose. Come sappiamo bene il nazismo non era solo un organismo politico, non era solo un'ideologia politica, non era solo un movimento, un partito politico. Era anche qualche cosa di più. Se vi recuperate quel libro di Ian Kershaw intitolato Hitler e l'enigma nel consenso, vi accorgerete del meccanismo che portò Hitler al potere, del meccanismo che portò il popolo tedesco a vendere letteralmente la propria anima a Hitler. Questo libro analizza alcuni di quei meccanismi relativi all'aspetto mistico, religioso, esoterico. c'è un aspetto importante ma da non sopravvalutare, perché in realtà non è che fosse poi così importante questa corrente del cosiddetto nazismo magico. Tra l'altro la prefazione di questo libro, l'introduzione in questo libro è di Giorgio Galli che è anche l'autore di un altro libro che ho recensito, ovvero sia Hitler e il nazismo magico. Sempre l'analisi delle influenze esoteriche, esoterico barra magico, barra pseudo scientifico sull'ideologia nazista. Ma, dicevo, questo libro ci parla essenzialmente anche di personaggi e c'è un personaggio molto interessante che Tombetti ci racconta, ovvero sia Karl Maria Williguth, il mago personale di Himmler. Allora, Karl Maria Williguth in arte Weistor, il demone nero, der Schwarzteufel, o il Rasputin di Himmler. Era lo stesso personaggio che bazzicava i club esoterici più in vista e specialmente l'ambiguo circolo del professor Lehrs, seguace del votanismo solare. Questa insolita figura di mago, gerofante e sofferente di disturbi psichici, merita di essere indagata se non altro perché la ricostruzione esoterica del famoso castello di Wevelsburg, la cattedrale, la mistica cattedrale dell'ordine nero dell'ESS è dovuta essenzialmente a questo personaggio. Cioè, giusto per farvi vedere, eccolo, scusate, ecco, giusto per farvi vedere, Wevelsburg è la costruzione che appare nella miniatura di copertina, è la costruzione nella quale c'è la famosa cripta con il cosiddetto sole nero dell'ESS. Eh, che vi devo dire? Allora, Williguth nacque il 10 dicembre 1866 a Vienna, città che aveva dato natali e onori a Guido von Liszt e Lanz von Liebenfels, i due ariosofi più famosi. Magari poi parleremo anche in seguito della ariosofia e preparatevi veramente al disturbo psichiatrico totale. Seguendo la tradizione militare di famiglia si iscrisse all'Accademia Imperiale Lasburgica a 14 anni e dimostrò subito di possedere le doti necessarie al comando. La carriera ebbe una carriera brillante e fu impiegato già a 18 anni sul campo con incarichi di controllo e supervisione di varie zone dell'impero. Promosso capitano nel 1903 e maggiore nel 1912, per la prima fase della sua vita militare fece parte della fanteria. Notato dai suoi superiori per capacità e attitudini al comando, nel 1914 divenne ufficiale di stato maggiore, impegnato in numerose azioni durante il primo conflitto mondiale. Diventato colonnello nel 1917, fu congedato per anzianità di servizio nel 1919 con oltre 40 anni di carriera militare. La sua curiosa personalità influenzò illustri personaggi, in modo particolare alcuni membri dell'ONT di Lanz von Liebenfels che erano affascinati dalla sua memoria occulta, dalla capacità di ricevere visioni della storia antica di un oggetto, in particolar modo vestigia di civiltà o rovine, semplicemente toccandolo. L'incontro di Willigut con Theodor Zeppel è scritto CZEPL. Ariani tedeschi con un cognome cieco Dicevo, il suo incontro con Theodor Zeppel dell'Ordine dei nuovi templari di Lanz segnò l'inizio di una nuova carriera in seno ai circoli esoterici Völkisch. Ricordatevi la famosa ideologia populista tedesca dalla quale nacquero movimenti come quello dei Wanderwögel. Ne ho parlato più volte in passato, magari recuperatevi il vecchio video in cui parlavo del libro di Massimo fra quelli omosessuali di destra. In effetti l'unione delle teorie razziste di Lanz con la memoria ancestrale di Willigut diede nuovo impulso agli studi runici e antico-germanici. Lo stesso Willigut, collaborò alla nuova serie di Ostara. Ricordatevi Ostara, la rivista per biondi, la rivista che ossessionava il giovane Adolf Hitler nel suo periodo Bohemian a Vienna che avrebbe dimostrato la nobiltà dei Germani grazie allo studio delle origini. Willigut soffriva tuttavia di incubi ricorrenti e di una sorta di complesso di persecuzione. Vedeva la storia della sua famiglia di antichissima e nobile origine come una successione di attacchi da parte di altre tribù e religioni che non capivano la nobiltà della sua stirpe e ne avevano timore. La stessa persecuzione era convinto di subirla egli stesso. Aveva avuto due figlie e un figlio morto però in giovane età. Questa tragedia raffreddò e incrinò i rapporti tra Willigut e la moglie che sfiorarono la violenza vera e propria. Inoltre ebbe problemi anche con gli amici. Un ex commilitone l'aveva convinto a garantire per lui una operazione finanziaria che creò non pochi grattacapi alla famiglia Willigut e il vecchio colonnello sentì di nuovo il peso della persecuzione su di sé. La situazione degenerò finché Willigut fu internato nel novembre 1924 in manicomio a Salisburgo. Qui rimase per tre anni. La sua cartella clinica parlava di atteggiamenti violenti e minacce di morte alla moglie, eccentricità, interesse morboso verso l'occulto, schizofrenia e paranoia. Pur con i limiti della nuova situazione, Willigut ricevette visite dai nuovi amici dell'ordine dei nuovi templari e della società della Edda, una lega con interessi occulti e legati alla ricerca runica e storica degli antichi germani. Quando uscì dal manicomio nel 1927 iniziò una intensa collaborazione con l'ordine dei nuovi templari e le riviste Agal e Ostara e con altre pubblicazioni che portavano avanti studi ariosifici. Il fatto che Willigut abbia intrattenuto rapporti tanto stretti con l'ONT è un indizio di come l'ordine templare di Lanz fosse entrato nel seno del nazionalsocialismo occulto. In altre parole è indubitabile e era ormai accertato che l'ariosofia di Lanz, a cui Willigut aveva collaborato con articoli sulla meditazione runica e la memoria ancestrale, sia entrata direttamente nel nucleo ideologico imleriano, grazie proprio alla figura di Weistor che univa ariosofia, votanismo solare, yoga runico e rituali antico-germanici in una sola teologia spiritualista, insomma un bel minestrone. Le sue esperienze di frequentatore di circoli legati all'occultismo dove si praticava la meditazione delle rune lo poneva in posizione favorevole di maestro di discipline esoteriche. La sua non giovane età giocava anch'essa a suo favore per la saggezza espressa dal suo aspetto. Il vero punto di svolta della carriera di Willigut fu tuttavia determinato dall'incontro con Eirich Himmler che gli fu presentato da un amico. Himmler che nella sua ingenuità caratteriale, perché sì, sì, diciamoci la verità, Himmler il signore padrone delle SS, Himmler, il Reichsführer delle SS, Himmler il più l'anima nera del nazismo, era in realtà un fesso che si faceva fregare da qualsiasi dabbenaggine esoterica. Nel mondo moderno uno come Himmler molto probabilmente sarebbe stato cliente di Vannamarchi, ma non lo dite a certa gente. Va bene, lasciamo stare. Ecco, Himmler fu affascinato dalla personalità del vecchio colonnello e lo inserì nelle sue SS nel settembre 1933. Willigut cambiò il suo nome in Weistor, ovvero sia il Thor bianco. Himmler lo impiegò immediatamente come capo del dipartimento di preistoria nell'ufficio centrale della razza a Monaco. C'è da chiedersi che cosa ne sapesse un ex colonnello di archeologia, ma dobbiamo ricordare che egli riceveva, grazie alle sue doti medianiche, visioni del passato e questo bastò per rassicurargli incarichi direttivi. Nel corso dell'anno successivo i suoi rapporti con Himmler migliorarono costantemente, portandolo a varie nomine all'interno del corpo SS, fino a che nel novembre 1934 fu promosso a tenente generale, ovvero sia il grado di SS Oberführer, del corpo dei pretoriani di Himmler. Himmler stravedeva letteralmente per il suo nuovo maestro, continuamente meravigliato per le sue capacità medianiche. Questa sua particolare predilezione per Weistor lo portò ad affidargli una serie di ricerche sulla toponimia e sulle vestigia germaniche in varie zone della Germania e specialmente la supervisione della ricostruzione del castello di Wevelsburg, la nuova sede occulta dell'Ordine Nero. Weistor intrattenne rapporti molto cordiali anche con il comandante del castello di Wevelsburg che fu entusiasta dei rituali irministi da lui ideati. Permise al vecchio generale di ufficiare i suoi rituali e di progettare le sale a seconda delle sue necessità cerimoniali. Addirittura terminava le sue lettere a Williguth con la frase di chiusura con lealtà irministra, testimoniando la sua piena adesione al neopaganesimo ariano. I cerimoniali di Wevelsburg sono frutto in gran parte del lavoro di Weistor che si occupava all'interno della famigerata SS Ahenerbe, la società per lo studio delle eredità ancestrali delle SS, di ricerca storico-religiosa con un particolare metodo di risveglio del ricordo ancestrale. Cadeva in trance e aveva visioni del passato germanico di fronte a vestigia teutoniche. Durante questi stati di possessione descriveva in forma coerente la civiltà in questione, specialmente nei suoi rituali religiosi, permettendo così agli archeologi della Ahenerbe, che aveva sede al castello, di scrivere la storia del sito. Williguth illuminò il Reichsführer sugli antichi rituali germanici, delineando, grazie alla sua memoria medianico-ancestrale, l'organizzazione, le pratiche religiose e le leggi degli antichi germani, in modo molto simile a ciò che aveva affermato Guido von List. Per questo gli fu data carta bianca nella gestione religiosa di Wevelsburg, per tutto ciò che concerneva i rituali, le cerimonie e la meditazione dei dodici Gruppenführer SS. Nota bene una cosa, uno dei più importanti gerarchi nazisti, gerarchi dell'SS, nonché forse l'unico ad avere caratteristiche ariane nella cerchia stretta di Hitler, ovvero sia Heydrich, trovava i rituali a Wevelsburg di una noia mortale e soprattutto li considerava una spaventosa rottura di balle, tant'è che preferiva andarsene al Salonchitti e chiamalo scemo l'antropoide. Vabbè, vabbè, vabbè. Williguth era... Tenetevi forte. Williguth era convinto che la prima stesura della Bibbia avesse avuto origine in Germania. Credeva che si trattasse del testo sacro di una religione irminista, distinta dal votanismo e devota al dio germanico Christ. Secondo Williguth il cristianesimo si sarebbe appropriato del nome trasfigurandolo in Gesù. Ma noi che memiamo a fare? sì, 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 le idee di Williguth. La dottrina storica di Weistor faceva riferimento a età inconcepibilmente più lontane di quelle accettate dalla storiografia ufficiale, risalendo addirittura al 228.000 avanti Cristo, abbastanza vicine alle ere descritte dalla teosofia. La Blavatsky, mamma mia! Grazie alle visioni di Karl Maria Williguth e all'entusiasmo del comandante del castello, si fece rivivere la fede irminista con vari riti. Per esempio lo storico Godric Clark menziona cerimonie di sposalizi pagani per ufficiali SS e le loro fidanzate. In tali occasioni Weistor ufficiava con un pastorale dal manico d'avorio adorno di un nastro azzurro e sul quale erano incise delle rune e le feste a ricorrenza annuale per la primavera, il raccolto e il solstizio a cui partecipavano sia la guarnigione delle SS sia gli abitanti del luogo. Inoltre, sempre durante gli sposalizi, Williguth presenziava alla cerimonia del pane e del sale che aveva lo scopo di procurare fertilità alla nuova coppia. L'ossessione per la fertilità del nazismo, ma vabbè. Fatto molto interessante riportato da Godric Clark, Williguth elaborò anche mantra germanici che avevano lo scopo di stimolare la memoria ancestrale. Ecco dunque un altro elemento che ci aiuta a comprendere come la meditazione con l'ausilio di mantra poteva essere effettivamente eseguita nella cripta di Wevelsburg. Himmler commissionò a Williguth il disegno dell'anello SS con rune incise che veniva donato da Himmler in persona. Inoltre, dietro consiglio del suo mentore, fece arredare le stanze di studio a Wevelsburg in base a figure della mitologia nordica. Widukind, Re Enrico, Enrico il Leone, Re Artù e il Santo Graal. L'anello rappresentava un legame esoterico che doveva unire i più alti in grado nell'ordine SS e alla morte dell'ufficiale esso avrebbe dovuto ritornare al castello in uno scrigno appositamente realizzato. Wevelsburg sarebbe diventato infatti il centro culturale di rinnovamento spirituale di tutto il Reich per i secoli a venire, dove l'antica fede germanica avrebbe unito le SS in un vincolo indissolubile. Weistor aveva anche compiti di supervisione culturale presenziando alle varie conferenze che venivano qui tenute. Nel 37-38 si recò più volte a Berlino per coadiuvare, indovinate un po' chi, Giulio Sevola, invitato come lettore. Bella coppia. Secondo Miguel Serrano, altro bell'elemento, non so se vi ricordate i deliri di certa gente che parlava dei deliri di Serrano quando parlavo della Neue Schwabenland, della cosiddetta base antartica nazista. Recuperatevi quel video che c'è da ridere. Dicevo, Evola fu l'unico italiano invitato a Wevelsburg, ma gli fu mostrato solo l'apparato di ufficio per la ricerca storica e quindi non poté rendersi conto di cosa stava visitando effettivamente. Evola che si rende conto di qualcosa? Nel corso degli anni, tuttavia, le SS mutarono parere nei riguardi del filosofo italiano e scoraggiarono la lettura delle sue opere. Williguth continuò a lavorare al castello sino al 28 agosto 1939, quando fu dimesso e consegnò ad Himmler il suo anello e la spada. Tra i motivi delle sue dimissioni ci fu certamente la scoperta nel febbraio 1939 da parte di quel simpatico figlio della merda di Karl Wolf. Proprio lui, Karl Wolf, di Arasella Ardeatina Wolf. Va bene, del dossier alla clinica psichiatrica di Salisburgo, dossier che si rivelò di notevole imbarazzo per Himmler, che aveva ingenuamente creduto in una persona rivelatasi, poi malata di mente, senza nutrire alcun dubbio in proposito. Ai ai ai, il fedele Enrichetto. Himmler continuò a tenere caro il vecchio generale e provvide, affinché ottenesse l'accompagnamento di un membro femminile del suo staff a causa della sua salute in peggioramento. Williguth si spense ad Arolsen il 3 gennaio 1946. Il suo contributo al nazismo si può quindi riassumere nella creazione ex novo di un sistema religioso superiore delle SS, con le seguide spirituali, i suoi rituali meditativi e cerimoniali e la sua sede occulta. In definitiva sarà a Wevelsburg che ogni cosa nell'universo visionario nazista troverà una collocazione precisa. Il Rasputin di Himmler, der schwarz Teufel, il diavolo nero. Il mentore spirituale di Himmler, un malato mentale certificato, afflitto da paranoie, deliri, schizofrenia belle buona, che sentiva le voci, che tramite, come dire, il toccare un oggetto ne percepiva l'antica storia e ricostruiva rituali religiosi, documenti, leggi, eccetera, eccetera, eccetera. Karl Wolf, che diciamo su istigazione presumibile di Heydrich, che diciamoci la verità, era l'uomo dal cuore di ferro, l'uomo senza anima, l'antropoide, nel senso di essere che ha di umano soltanto l'aspetto. Voglio togliersi di mezzo la scomoda presenza del mentore di Himmler, del padre spirituale dei rituali di Wevelsburg, del creatore, dell'inventore, del ciarlatano schizofrenico che si era inventato tutto di sana pianta nei suoi deliri psicotici. Appare agghiacciante, ed è agghiacciante, il fatto che una delle più grandi tragedie dell'umanità sia nata anche dai deliri di uno pseudoveggente malato di mente, che manovrava un inzeno imbecille come il gelido e feroce, fedele Enrichetto. Sì, perché ripeto signori, allora Himmler era un maestro nel credere alle cose in cui voleva credere. La superiorità della razza ariana, cioè lui di media statura, gracile con le spalle bottiglie a bottiglia, la panzetta, il collo e il doppio mento da tacchino. Però lui era ariano e credeva nell'arianità, credeva nel recupero dei valori della razza germanica alta, bella, bionde con gli occhi azzurri. Himmler. Williguth, che cosa dire di Williguth? Tombetti ce lo descrive abbastanza bene. Un uomo? Allora, io capisco un uomo che era stato segnato profondamente dalla vita per la morte del figlio maschio, il dolore, lo sconcerto, un colpo terribile al quale, come dire, non tutti possono resistere e Williguth non resistette. Le manie di persecuzione, Tombetti ci parla brevemente delle manie di persecuzione di cui soffriva Williguth. Ce l'hanno con me e quelli ce l'hanno con me e quelli vogliono trascinare la mia nobile casata, il mio nobile nome, le nobili origini della mia famiglia blablabla, nel fango, eccetera, 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 eccetera. Allora, chiunque non dico abbia un minimo di cognizione di causa della materia psichiatrica, che io non ho, si rende conto di avere a che fare con una persona che soffre di gravi disturbi. Ma Hitler ne fece il suo maestro spirituale, Hitler lo fece diventare il suo Rasputin, il suo diavolo nero, il suo Thor bianco. Ripeto, essendo io uno scettico materialista che crede poco o niente a livelli superiori, ok? Il mio giudizio è estremamente netto, ma veramente ci credevano. Ripeto, per molti l'adesione al credo esoterico e filosofico nazista, alla pseudoreligione, alla pseudospiritualità nazista, a volte era sincero, ma molto spesso era una questione di puro e semplice opportunismo. ma veramente il pensiero che uno schizofrenico, paranoide, certificato abbia influenzato così tanto uno degli uomini più potenti del mondo, perché Himmler era indubbiamente uno degli uomini più potenti del mondo e che quest'uomo si sia bevuto tutto fino all'ultima goccia è una cosa secondo me agghiacciante, molto agghiacciante. Himmler voleva credere disperatamente, credeva disperatamente alle cose in cui voleva credere a tutti i costi. E un anziano, ex colonnello austriaco, gli fornì quello in cui voleva credere. e Himmler si trangugiò tutto d'un fiato, senza badare al fatto che questo suo ispiratore, che questo suo mentore, questa sua guida spirituale fosse in realtà un, tra virgolette, scusate il gesto, banale, malato mentale. Che vi posso dire? Ci possono credere, ci credano tanto, ci credano molto, ci credano forte. ma secondo me chi ha un minimo di cervello realmente non può far altro che mettersi a ridere molto amaramente di fronte a queste cose. Tutto qua. Quindi, cari signori, adesso tocca a voi, come sempre, qua sotto commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ripeto, questo libro è molto interessante e fornisce degli spunti di discussione molto, molto, molto stuzzicanti, devo dire. Magari ne tireremo fuori altri video. Quindi, io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre qua sotto commentate. Se non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale e, tanto per cambiare, un abbraccio fortissimo e, soprattutto, ciao!